Bentornati a GetLatestVersionPills. Con la seguente pillola vorrei andare a descrivere una semplice guida step by step per migrare WorkItem da Jira Software in Cloud a Azure DevOps Services. Come è possibile vedere qui davanti avete un progetto creato come target della nostra migrazione su Azure DevOps ed un altro che è la nostra sorgente creato sul cloud di Jira Software già organizzato in sprint corrente ed elementi del backlog. Quello che vogliamo ovviamente è copiare tutti questi elementi all'interno di quello che è il nostro team project creato appositamente su Azure DevOps avendo il più possibile le cose uguali quindi la storia, l'assegnazione, i tag, gli story points, le priorità, tutto quello che ci serve. Ovviamente per ottenere questo tipo di migrazione non basta utilizzare uno strumento vero? E invece no. Esistono già degli strumenti anche open source che consentono di migrare questi elementi sulla base del template di processo di Jira direttamente nel nostro template di processo su Azure DevOps anche se il template di processo come indicato nel mio progetto di esempio utilizza un template non standard. Infatti questo simplified scrum è semplicemente una copia ereditata dello scrum con un item in più che mi consente la gestione delle operation. Uno degli strumenti che possiamo andare ad utilizzare per effettuare appunto questo tipo di migrazione è il tool di Solidify, il Jira Azure DevOps Migrator. Attenzione perché la scelta di questi strumenti verte soprattutto su alcune domande molto molto importanti. Tra cui ad esempio il workflow che abbiamo sulla sorgente quindi il flusso del cambiamento degli stati è esattamente speculare a quello che vogliamo ottenere sul target oppure vogliamo cambiare il comportamento? Vogliamo rimuovere o aggiungere qualche stato? Va bene il workflow che avevamo sul tool sorgente, vogliamo cogliere l'occasione anche per cambiare il modo di approcciare la metodologia anche a fronte di una migrazione culturale e di metodo stesso. Abbiamo bisogno di preservare le relazioni tra gli elementi? Tutti gli elementi ci servono oppure possiamo migrare solo una parte magari soltanto quelli nuovi e quelli di cui ci serve la storia e soprattutto degli elementi ci serve la storia? Infine al di fuori di questa migrazione che vi farò vedere nella pillola è importante anche capire quali degli strumenti che avevo prima invece voglio ottenere, perché potrebbe essere ad esempio che vado a migrare tutto quello che è repository e work item ma magari voglio tenermi la wiki su un altro prodotto perché è estremamente efficace con le abitudini e la metodologia che applichiamo quest'oggi e che va d'accordo anche dopo la migrazione diciamo. Andiamo a vedere un attimino come è fatto questo strumento. Prima di tutto dobbiamo andare a scaricarlo direttamente dalle ultime release da github. Troverete poi comunque il link in descrizione e nel post a supporto di questa pillola. Quest'ultima versione la 2317 ad oggi contiene uno zip ci sono anche i codici sorgente però contiene uno zip che una volta decompresso al suo interno a l'applicazione. Quindi alla fine abbiamo due comandi il gira export e il wi import che sta per work item quindi gira export esporta file, work item import importa tali file sulla base del mapping. Andando a vedere direttamente aprendo il software con il nostro editor preferito notiamo che c'è una parte in cui possiamo andare a configurare sulla base di queste di questi file json i template che decidiamo di migrare e nel nostro caso prendiamo come esempio il file scrum e andiamo a configurarlo andando a definire quelle che sono indicate nel tool come le mappe quindi mappe che riguardano le relazioni i tipi i campi di ogni tipo con gli stati e l'eventuale dizionario a supporto. di conversione ovviamente perché gira ha le sue entità con i suoi valori e qui ovviamente dobbiamo andare a definire quello che è il mapping verso azure devops. Quindi lo strumento si traduce semplicemente in due command line con l'utilizzo di un json di configurazione che definisce il mapping e fine. Sulla base di questo viene generata una cartellina sempre impostabile a livello di configurazione che è la gira export all'interno della quale avremo sia i work item esportati da gira pronti per essere importati su azure devops sia un file users.txt all'interno del quale dovremo andare a mettere copie di utente gira utente azure devops quindi utente sorgente utente target. Quali sono i pre-requisiti per la migrazione? Abbiamo detto che abbiamo due linee di comando la gira export e la work item import. La gira export avrà bisogno dei dati di connessione e di accesso quindi l'indirizzo http, https in questo caso del gira software in cloud, la credenziale con privilegi di amministratore che possa connettersi a tale server per andare a esportare e il file di configurazione opportunamente impostato per andare a scaricare soltanto le user story che ci interessano. Lato import invece quindi sulla parte del target work item import il nostro project dovrà dare accesso sempre a me per poter eseguire quel comando e caricare i dati. Stavolta basta sempre l'indirizzo https dell'organization su azure devops services e poi servirà un personal access token che è impostabile tramite il menu user settings qua in alto a destra personal access token. Ne ho già preventivamente creato uno che come poterete è in full access ed è questo qui e l'ho salvato nel nostro repository. Ma andiamo a vedere la configurazione. A questo punto andiamo a verificare il contenuto della nostra cartella dove abbiamo decompresso il tool e all'interno della cartella samples andiamo a determinare quello che è il sample che vogliamo utilizzare come base di mapping di migrazione. Diciamo che il più vicino per noi è quello scrum. Prendiamo il config scrum.json e lo copiamo in root. Utilizzando un editor testuale ad esempio Visual Studio Code possiamo andare a prendere il file copiato nella cartella root dove troveremo i comandi e andiamo a configurare quelli che sono i dati di base per connettersi al progetto più che altro, più che per connettersi per definire come comportarsi con il progetto. Ad esempio nella parte iniziale abbiamo il source project in cui metteremo il nome del progetto sorgente, quello di Gira, il target project che è il nome del progetto fatto su azure devops e poi andremo a cambiare la query, mettendo ovviamente il nome del progetto sorgente perché stiamo parlando di query JQL su Gira, imposteremo se il progetto Gira è in cloud o meno, il workspace ovvero la cartella su cui verrà esportato l'elenco delle issue e poi altre informazioni come ad esempio la cartella su cui andare a mettere gli attachment e il nome del file che troveremo all'interno della cartella workspace quindi quella definita in questo nodo all'interno del quale andremo a mettere la lista degli utenti con i mapping, il nome del process template quindi il nostro simplified scrum che è quello dedicato appunto a azure devops e poi potenzialmente le mappe dei link lasciando anche quelle di default, eventuale mappa tra item Gira e item azure devops quindi source e target, ad esempio potremmo dire che le nostre story vanno dentro a un altro item diverso dal product backlog item oppure potremmo creare un tipo custom su Gira e mapparlo sul nostro tipo, tutto sta a come decidiamo di definire il nostro workflow e il nostro process template. Il mapping degli stati, scusate dei campi e ad esempio qui vediamo le priorità oppure anche il mapping degli stati divisi per tipo quindi per ogni tipo di elemento per esempio il bug, il product backlog item con la chiave for, avremo lo status di Gira viene mappato sul system state di azure devops e i valori possibili sono questi tre valori per cui to do di Gira corrisponde a new di azure devops, done di Gira, done di azure devops, in progress di Gira, committed di azure devops quindi si tratta soltanto di andare a impostare questo JSON, la cui documentazione troverete nel link in descrizione al video e basterà lanciare la command line. Andiamo a vedere quindi come eseguire l'esportazione dal momento in cui ci connettiamo a Gira Cloud dobbiamo verificare l'esistenza di un token che trovate sulle impostazioni dell'account a livello di sicurezza nei token API io ne ho creato uno che ho copiato su un file di testo di appoggio per poi utilizzarlo questo è importante perché la basic authentication su Gira Cloud non funziona ma su Gira Server on-premises potrete tranquillamente usare username e password andiamo a vedere come comporre il comando utilizzando un prompt dei comandi ci spostiamo sulla cartella in cui è stato estratto lo strumento andiamo a verificare nuovamente all'interno della Gira Export il file user.txt per il mapping utilizzando il Gira Cloud forse è meglio indicare direttamente l'email per evitare dei warning e andiamo a questo punto a comporre il comando Gira Export parametri che si aspetta username appunto appena copiato nella password ci vorrà il token che ho creato appunto per Gira Cloud quindi su questo file questo token l'url a cui connettersi che è l'url dell'organizzazione del nostro progetto Gira e la configurazione da utilizzare che è il file su cui stiamo lavorando ricordiamo che praticamente l'abbiamo lasciato di default eseguiamo il comando vengono esportati i nostri sette item attenzione interessante un warning un warning perché? perché siccome la lingua del progetto che ho creato io è in italiano probabilmente esiste uno stato da completare che io non ho mappato per l'elemento story come facciamo a risolvere un problema come questo? basta andare sul nostro file di configurazione e nel elemento che è mappato sulla story quindi il product backlog item andare ad aggiungere un nodo che determini che da completare come stato è mappato ad esempio su committed quindi a questo punto possiamo andare sulla Gira Export cancellare tutto quanto è stato creato lasciando lo users.txt e rilanciare il comando da capo stessi parametri ecco qui tutti gli elementi vengono creati perfettamente e il formato utilizzato per formattarli è ovviamente un formato che può essere tranquillamente importato da Azure DevOps e infatti lo step che ci manca è proprio l'importazione andiamo quindi ora a vedere come si fa l'importazione degli elementi come è possibile immaginare si tratta semplicemente di impostare il comando corretto quindi ancora una volta da un prompt dei comandi ci spostiamo sulla cartellina in cui abbiamo estratto il tool e questa volta il comando è wi import quali sono in questo caso i parametri molto semplice serve il token salvato nel nostro repository quindi questo poi l'url a cui puntare quindi nel nostro caso andiamo a prendere il progetto di Azure DevOps dev.azure.com slash il nome dell'organizzazione poi il file di configurazione quindi il nostro solito config scrum.json lanciamo il comando e vediamo che succede meglio mettere sempre il parametro force e vediamo connessione ecco qua guardate stiamo importando 7 elementi con 45 revisioni quindi c'è anche la storia eccoci qua siamo quasi alla fine ecco qui come mostriamo il risultato in maniera molto semplice andiamo sul nostro progetto e già a prima vista sui work items noterete che abbiamo migrato tutte le nostre 7 user story e ognuna di queste ha anche con sé portato la storia ok queste user story che sono diventate product backlog item dove sono stati messi? sotto l'area migrated e sotto gli sprint al di sotto dell'iteration migrated quindi semplicemente andando a lavorare con i nostri backlog è possibile metterli e assegnarli ad alcuni team spostarli sotto altre aree sotto altre iterazioni risultano comunque importati all'interno di Azure DevOps quindi avete visto come in pochissimo tempo è stato possibile esportare tramite un semplice tool open source al quale potrete contribuire nel link che vi lascio in descrizione e importarli in pochissimo tempo appunto su Azure DevOps vi consiglio di fare qualche prova sul vostro account di test come ho fatto io prima di procedere effettivamente con la migrazione di produzione per questa pillola è tutto se vi è piaciuto il video mettete un like vi consiglio di sottoscrivervi al canale cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati grazie da Get Latest Version e alla prossima pillola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti